Benvenuti amici, io sono Salpimpost, oggi siamo su Five Nights, Freddy's, Security Breach Finalmente lo vado a provare anche io, lo proviamo assieme ragazzi perché ovviamente non ne so nulla Come sempre io ho dei giochi e io non mi spoilerò niente come al solito Quindi iniziamo subito la nuova partita, oggi siamo previsti tanti jumpscare, ovviamente Ecco, ti dice proprio il warning, questo gioco è anche nel jumpscare Quindi preparati a morire, l'infarto giustamente Che c'è da fa? Guarda lì là che sono figaccioni Ma questi dovrebbero far paura Preciso, rocchettari proprio allo stato puro, guarda la Freddy Oh, musica fighissima Bellissimo, bellissimo, solo per la musica Cioè, una musica che ti stica a ballare, cioè assolutamente Ma come siete passati da... Montgomery Wolf, Roxane Glamrock, Chica E fa sbire Come siete passati ad essere un gruppo rocchettaro a fare jumpscare? Fatemi capire Ecco, ce lo sta spiegando Sono andati in tilt Si sono rotti No, vabbè Starting up Safe mod E passa in modalità Che faccio? Niente Mi aspettavo di peggio Salve Showtime already? I am experiencing malfunction The recharge cycle is not complete Well, you shut up Who said that? I did And down here Down where? I still do not see you Okay, listen You were sleeping, so I open the stomach hatch and climbed inside My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and billiadas Cioè, io sono dentro Freddy Fa me... Esci da Freddy, no, vabbè Salve Scan and complete How odd Your guest profile is unknown to me Who are you? I... I'm Gregory Gregory I will notify the main office Connection error I cannot connect to the main network It's her She cut you off She's not going to let you call for help until she finds me Who? Who is looking for you? Your mother? Shh I hear footsteps Che è successo fuori dalla finestra? Mamma, la sensibilità altissima Dove è la finestra? Che succede? Aspetta, sistemiamo la sensibilità che è troppo elevata Ecco, così dovrebbe andare meglio Allora, guarda fuori dalla finestra Che è successo? That is the security guard She can help No, no I don't trust her Why not? I don't know who she is But she's trying to get me Prendi il Fazwatch da Fre... Ma scusate, com'è che passano a farmi jumpscare? Raccogli Mi stanno aiutando Ok, a più fa... Qui abbiamo proprio un sistema di tele-telecamere Mappa, missioni Trova il pulsante Messaggi Vabbè Qua abbiamo proprio un sistema tecnologico Vabbè Possiamo chiudere, va Che ciao Come sei veramente tenere coccoloso Me la posso andare? Premi... Niente Premi, eh, che devo fa? Dobbiamo leggere il messaggio Trova il pulsante Ho capito Qui? Qui c'è un pulsantino Oh, perfetto Trova, trova Libera Freddy Dalla sua stanza Ok Vabbè Io ci provo Poi quello che succede, succede Sì Se lo dici tu Io non mi fiderei più di tanto Che è? Punto di salvataggio Ti ho premuto X Per salvare il progresso Ci vuole un po' di tempo Quindi stai allerta Pure Pure Per salvare Ci vuole pure il tempo Allora Salto E saltiamo E saltiamo E saltiamo Attenzione Saltiamo con un po' più Di vigore Per fav... Per favore Ecco Eccomi Premi su Per accucciarti Ok Perché su? Non si è mai visto Premere su per accucciarmi In tutti i giochi Vabbè, quasi Allora Navighiamo Da questa parte Ma io non ho capito Sta parlando da sola Oh no Vabbè Però, sì Non fare tanta La vanitosa però Vabbè Noi continuiamo Corri, corri Ramoscelotto Corri Altrimenti qua facciamo Natale Dell'anno prossimo però Via Niente Qua sembra tutto tranquillo A parte il casino Che sto facendo Tra i condotti Mi è finita l'energia Qua è chiuso Tasta stata che ho fatto Che succede là dentro? Che state combinando? Stanno distruggendo mezza cucina A lanciarsi i piatti Io non mi... Che è la... Elettricità? Vado? Chi è che suona la chitarra? Mi sto preoccupando Ancora non abbiamo visto niente Però io già mi sto preoccupando Chi sei? Chica Stiamo oltrepassando Tutte le stanze Degli animatronici Qua c'è sempre Chica Guarda là Guarda lì come è brava Vabbè Andiamo avanti Vediamo dove che andiamo a spuntare Salve Posso buttarmi? Signore e signori Vi ringraziamo per... Per la visita Ci auguriamo che lo spettacolo vi sia piaciuto Freddi e la sua bando Sono piuttosto stanchi Ma torneranno la settimana prossima Da qualche giorno Di ordinare la manutenzione Vi pregiamo di dirigervi Verso l'ingresso dell'edificio Dove riceverete degli occhiali gadget Un voucher per un refill di gassosa E dovete firmare una liberatoria Che ci senta da ogni responsabilità Per qualsiasi cosa Che sia potuta accadere Durante il vostro soggiorno Vi auguriamo la buonanotte Ci vediamo prestissimo Allora i sottotitoli Sono un po' grandi secondo me Vabbè Per adesso Salve Lei non mi fa nulla per adesso No? Cioè io posso guardarla Allora vediamo un po' Esploriamo un po' Montgomery Gator Esploriamo un po' Questa... Questa... Location Io mi sento sempre aggredito da dietro Qua Che c'è? Una porta Staff room Mi sa che non posso entrare Serve un passo di sicurezza di livello 5 Per poter entrare Ma che è sto casino? Ma che... Perché mi sento perseguitato? Quella è la stanza di Cica Ok Vabbè Io vado avanti Mi sento perseguitato Lei è Wolf Roxane Salve Questa è la vanitosa Ok Dopodiché Che abbiamo qua? Fazbear Che mi devi dire qualcosa? No Io ti guardo Io ho fatto tutto il giro Praticamente Eh Ok Trovo un passo fotografico per Freddy Premi Y A posto Trovo il passo fotografico In uno dei banconi Quindi Andiamo alla ricerca Qua C'è una borsa qua Ti hai premuto raccogli Vediamo Che ho preso? Eh Messaggi Nuovi Festa rovinata Abbiamo pagato il pacchetto Glam Freddy Mega Deluxe Party E Freddy si è rotto Appena è salito sul pacchetto Avevamo pagato la bella al tavolo Per cantare buon compleanno Doveva dare lui la torta a mia figlia Le avete rovinate il compleanno Esigo un rimborso E come sei Brutta persona però Allora Il bancone Quale bancone? Ci sono tanti banconi In questo posto Mi faccio la foto Non ci arrivo però Sono sempre più Eccoli Eccomi qua Chi mi fa la foto? Nessuno? Mamma Robottino Fammi la foto Mandamela su Whatsapp No? Come sei inutile Ah ecco Questo potrebbe essere Il bancone che diceva Freddy Fammi vedere un po' Io non vedo niente però È normale Oh pass fotografico Con questi suoi patatini Eccolo qua Photo pass Pre Trovato Trovato Raccogli Sempre se è lui Giustamente Oh trovato Trovato Pass fotografico Trovato Libera Freddy Good job Sì sì però Con calma e circospezione Freddy Io qua non è che posso fare Tutto il lavoro Giusto Fai qualcosa Anche tutto all'interno Avanti su Fa Salve Stai sicuro? Come usare Freddy? No ma noi impersoniamo Freddy addirittura Cioè noi siamo dentro il corpo di Freddy Usa eh per controllare Freddy Premi X per uscire I robot non possono trovare Gregory Mentre sta controllando Freddy Giustamente perché mi spaccio per Freddy Quindi Non possiamo allertare i robot Allora Freddy Io mi insinuo nel suo corpo Ma come faccio ad entrare qui dentro? Scusami Sono così piccolo Ma sono uno scricciolo Non è che sono piccolo Mmm Abbiamo battito scarica comunque Vabbè Eh Io uscirei dalla porta Ci passo Ci passo Ci passo Attenzione Allora Dove vado? Raggiungi la hall principale del Pizza Plex Qua Tunnel di servizio solo staff Minzino Oh È giusto di qua no? Abbiamo Freddy un po' mezzo scarico Ho paura che succeda qualcosa di brutto Quando si scarica totalmente Totalmente Salve Lei è di turno? Qua comunque possiamo tagliare con catena Non lo so Vabbè scendiamo Forse Che è? Ok Ok quindi in ogni caso Non dobbiamo farci vedere Quindi azioni stealth Fammi un po' vedere però Fammi capire Qual è Qual è lo scenario Dov'è? Qua? Ce n'è su? Quindi? Freddy ma se ti dico che sto bene Sto bene Entra nel pronto soccorso Ma perché non ti fai gli affacci tuoi Andiamocene da qua Allora Entra nel pronto soccorso Mi nascondo Nel pronto soccorso Hmm Freddy You're supposed to be on lockdown Officer Vanessa I do not know how I got here Well You totally blew it tonight You know Your system crashed And you ruined the show Now parts and services Have you on reduced power They said as a safety precaution Just one more thing to deal with I apologize Ok Look We're like 15 minutes from closing And some kid is sneaking around backstage If you see anything Notify me immediately I already alerted the others Now go back to your room A posto Ecco qui la cene stealth I told you she was after me I said nothing I will keep you safe Let us go Let's go Andiamo Andiamo Forza Freddy dai che siamo Io non ho capito perché mi Cioè perché mi fanno jumpscare Allora non è lui che mi fa jumpscare Se lo controllo Allora che si fa Dove si va Più che altro Usciamo dall'infermeria Qua Usciamo Usciamo Allora Andiamo di qua Ascensore No Meglio così Di qua Buono La mia situazione è particolare In che senso Carica bassa Ho capito Che fa Ma faccia a piedi L'avevo capito Che la carica era bassa Come lo carico Un power bank Non ce l'avete messo Un power bank Da queste parti No B1 E Scale Mi sento un po' Non lo so Con il fiato sul collo Da qualcuno Freddy scarico Freddy scarico Non potrai aiutarti Fino all'inizio Della prossima ora Buono Che buono Che buono Che buono Che buono Borsetta Vediamo che c'è dentro La borsetta Raccogli Che abbiamo Una pistola No Che cos'è Nuo messaggio Conservazione degli alimenti All'attenzione della brigata di cucina Tutto il cibo deve essere accuratamente Conservato alla chiusura Chica è stata trovata a mangiare cibo dalla spazzatura in cucina Dopo la chiusura Le riparazioni sono costose Saranno decurtate ai vostri stipendi La direzione Oh Mi sembra corretta come cosa Scusate Mi sembra corretta Trova la hall Ok Va benissimo così Allora la hall Dove si va per la hall Salviamoci la partitina E vediamo 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 Allora lobby Vediamo che c'è la lobby Bagni Vari di eventuali Produttore di rumori Prem X per buttare oggetti a terra e distrarre i bot Non farti scovare Addirittura Perché da loro No e da Freddy si Uso oggetti a terra Che cosa posso buttarli per terra Fammi vedere se c'è qualcosa qua No Sì Premi per distratti E che cacchio faccio adesso io Salveci Oh cacchio mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mamma mia No Game over Ma che cos'è Mamma mia Proprio il primo jumpscare Preso alla prima volta che potevamo prendere jumpscare Dico Ottima Ottima come cosa Niente Dobbiamo semplicemente attirarla E andare dentro la porta Perché poi lei mi vede Giustamente Distrazione Che lei va di là Ecco E io passo Ecco Furtività Premi per accucciarti Quando ti accucci i robot avranno maggiori difficoltà a trovarti Un controllo blu Vuol dire che non sei visibile Il giallo vuol dire che Il robot ti sta cercando Il rosso vuol dire che ti hanno trovato E ti Ti ammazzano Detto così in parole povere Mi accovaccio Ma io devo passare per forza di là Quindi vediamo Ci È interdetta E chi se ne frega Me ne vado E io me ne vado Non mi puoi scovare Cica Non ci fracassare le scatoline Via E fin qua Ce l'abbiamo Ce la facciamo Passi di livello 1 No no Tranquillo Era aperto Allora Scatti più resistenza Ti viene prodotto per correre Non puoi correre in eterno Mi sembra giusta come cosa Mi sembra giusta Perché devo correre? Sono inseguito da qualcosa o qualcuno? Non voglio correre io qua Fammi vedere Cos'è che possiamo fare B1 Corre FB2 Sto vagando sempre senza una meta io Perché non so che fare Il cosino qua non mi dice nulla Trova la hall Semplicemente Vabbè Noi ci perdiamo Tra le stanze Tra le mura di questo postaccio Qua possiamo salvare Sì Sfruttiamoli sti pannelli Per salvare Non si sa mai Allora Ma io ogni volta Mi sento sempre accovacciato Mi sento sempre accovacciato Qua non possiamo portare robot Allora Adesso corro Adesso corro Via Via Adesso corro Adesso corro La lobby l'abbiamo trovata Robottini malefici Perché dovete fracassare? Mi è finita l'energia Mi è finita l'energia Mi è finita l'energia Mi è finita l'energia Ma tu proprio Tutti così Oh ma una alla volta Piano Piano Che cos'è tutta questa aggressività? Che fanno? Mi hanno caricato le batterie Ma scusate Mi finisce l'energia Che faccio? Mi aggrappo? Ci aggrappiamo Come sempre ci aggrappiamo noi Allora Non me l'ho salvato Allora Piano Da lì c'è la cica C'è un altro posto Dove poter andare There you are There you are Via 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 A destra Ti sei perso un pochino Ho capito Ma E qua è chiuso Qua è chiuso Quindi dobbiamo andare di là Il problema è che mi finisce l'energia Non posso Non posso correre in eterno Se stiamo prendendo jumpscare Proprio A A profusione A profusione Comunque Raga Fighissimo Gioco fighissimo Quindi mi raccomando Lasciate like Così ce lo continuiamo E lo finiamo Possibilmente Se non prendiamo troppi jumpscare Che altrimenti Non lo finiremo mai In questo gioco Ma sicuro che Infatti lì è chiuso Lì è chiuso Mi finisce l'energia Non è che è colpa mia Scusate Scusa via Dai non mi Mi tolgono la visuale Cioè me la fanno girare È normale che poi io E ci vado a morire Corri Corri Ramocellotto Corri 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 Ramocellotto Mi finisce l'energia Non laggarmi Per favore Via Via Fatto Fatto Non lo hai In che senso E quando l'alimentazione Ci sarà più Il potere è solo 15% E si spaventano Alla porta Come ho Sì Non panicare Potresti vedere Un'interface Alla Sì Sì Posso Via Controlla La mappa Sì Quindi Trovo un percorso sicuro Verso la Verso l'ingresso principale Allora Percorso sicuro Quale sarebbe Scusate Perché c'è Cica C'è Cica Che fa comunque Sempre il giro Quindi posso Posso seguirla Sostanzialmente No Eh Quello che mi rompe le scatole Che vuole entrare Percorso sicuro Non è certamente Dove sta sbattendo Lì che vuole entrare Quindi io mi insegnerei qua Prenota il tuo posto Salva 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 Assolutamente Salva Mi sento perseguitato Comunque c'è Cica Che vaga lì Salva Salva Quindi io mi accovaccio Come una marmotta E cerchiamo di Nascondigli Premi X Quando ti trovi C'è un nascondiglio Per sfuggire ai bot Attenzione Se un robot ti vede E mentre ti nascondi Può Può trovarti all'istante Ovviamente Chiudi 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 che ci penso io Tranquillo Mi nascondo Ah perché c'è Cica Che vaga qua Però non ce ne frega niente Scusatemi Fammi vedere Mammo mi Io devo andare di là Giusto? Eh perché se ci camminiamo Alle spalle Dico non mi farà nulla Non mi può vedere Cica Che fai? Ecco Io devo andare di là Quindi aspettiamo Che le se ne vada E me ne vò E me ne vò E me ne vò Ok E qua l'abbiamo scampata Exit Alziamoci E me ne vado Me ne vado Avvia dei protocolli notturni Ma come Ma come protocolli notturni Con chi avremo a che fare adesso? Come back Ma io devo uscire No Via Sono le dodici No No Si è chiuso tutto Meglio così No Anche qui Dobbiamo aspettare la mattina Oh no Vabbè E che faccio ora? Che faccio? Devo aspettare la mattina Ma eh Contro chi Devo vedermela Io mi accovaccio Cammino sempre accovacciato Niente Come back soon Eh niente Andiamo avanti Non c'è nessuno Non posso alzarmi Per ora Di qua Minzino No Serve un passo in questo omaggio Dovresti trovarne uno Di c'è l'ingresso principale Ok L'ingresso principale è questo No Fammi vedere se c'è qualche borsetta Lasciata in giro Niente Qua niente Allora Da queste parti Parcheggio Là ci sono Ci sono i robot sentinella Lì Fammi vedere No vabbè Gioco stealth Mi piace giochi stealth Ah un pass sicure Un pass qua gratuito Dove lo trovo? Ci sono tanti robot qua Che mi fracassano le scatoline Mi salvo la partitina Eccolo là L'ho trovato 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 Salviamo Pass gratuito E adesso ci insinuiamo Salva Salva Ok Raccogli Perfetto Adesso dobbiamo essere peggio di Snake In Metal Gear Giusto Mi insino da lì Aspetta da qui all'uscita Da lì all'entrata Mi insino da qui Attenzione ai robot Eccomi Premi X Servizio clienti Presumo debba salire da lì Scambio il pass ingresso Maggio Al macchinario di potenziamento Solo dipendenti Camera ufficio Missioni Scambio il pass ingresso Questo l'abbiamo visto Abbiamo un pacchetto regalo lì Tanti pacchetti regali Con le varie Con le varie sentinelle Che mi fracassano le scatoline Allora vediamo Vediamo Non so se devo correre Se devo Ho paura Eh sono troppo veloci Oh piano piano Via 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 Ma posso correre anche da abbassato Mi sembri un po' troppo attivo Come robot Però via Via che mi insino Mi insino Mi insino qua Non lo so dove sia qua Però ci vado Passa sicurezza a livello 2 Ottimo Ah qua c'è l'uscita No l'uscita Non me fega niente Chica solo staff No Dobbiamo andare di là La sentinella Mi vede qua No No Via 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 Muro muro Ancora non posso entrare Che fa salgo E c'è chica lì No Io l'ho dall'altra parte Ma io nel dubbio Me l'ho scappato E me l'ho scappato All'altra parte Via No vabbè No vabbè Ma è fighissimo Sto gioco ragazzi Proviamoci un'ultima volta Vorrei capire Dove andare Dopodiché lo continueremo Al prossimo video Voi ovviamente Lasciate like Come se non ci Salve Come se non ci fosse un domani Che vuoi Non rompermi le scatole Allora Apri No dall'altra parte Come sempre Ah il pass l'avevo preso No il pass l'ho lasciato lì Perché l'ho salvato Prima di prendere il pass Quindi prendi il pass Che cacchio vuoi No vabbè Fanno scattare l'arma Cicchina Non lo fare Ma quindi appena mi vedono E' finita C'è uno che si scappa Buono buono Cerchiamo di non attirare La gente brutta e cattiva Allora Piano mi accovaccio Mi accovaccio E corro Lì abbiamo Chica Sulle scale Quindi Che faccio Ma è scesa Lei fa il giro Quindi adesso mi accovaccio qua Le sale Attenzione a quell'auto lì Allora sì sì ho capito Telecamere Vabbè Chica dov'è C'è un pacchetto qua Ma con la sentinella Che mi rompe le scatoline lì Come faccio Ti mi hai premuto E via E via E via Ok Ho preso qualcosa Non so bene che cosa Soldi facili Mio cugino lavorava qui Mi ha detto che le calamite Mandano in tilt In tilt E tua sorella Mi ha visto Ha chiamato Chica Via Corri Corri Me ne vado Alla porta E come è chiuso Corri No Corri Corri No Gioco Gioco Bellissimo ragazzi Però Per oggi direi che mi sono preso abbastanza Jumpscare Insieme a voi ovviamente Freddi chissà qual è il premio gratuito Ma lo scopriremo al prossimo video Eventualmente Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate like per supportare questa nuova serie E noi ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi al canale Se siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Aghi Iden Seek Playtime Giochiamo sempre al nascondino Con Aghi Però Rincorriamo i personaggi Diamo gas Quindi No vabbè Se ne inventano uno ogni giorno No vabbè No vabbè